tutto quanto il giorno io e mia mia amica però missione compiuta abbiamo preso tutto quello che dovevamo prendere e poi mi sono pure lavati i capelli quindi non so se avete presente quando però non avete voglia di asciugarli quindi state là col telefonino e dite vabbè però se sto un'altra ora così domani c'ho la broncopolmonite quindi vado ad asciugarmi però è passata un'ora nel frattempo e finalmente sono qui e mi sono messa a guardare una serie tv tra l'altro prezzesca infatti si chiama glow up non ne ero a conoscenza ma col fatto che è appena uscita la seconda stagione mi sto guardando dalla prima stagione ed è pazzesca ora vi do la buonanotte perché vado a finire questa serie che sicuramente finirò entro domani sul make up è pazzesca cioè nel senso perché dico sempre pazzesca mi do fazzia da sola vi auguro la buonanotte dicendovi che appunto vado praticamente a finire questa serie tv perché so già che la finita 3 ore sul make up tra l'altro io adoro i battle show americani perché c'è loro tipo già dal primo giorno di registrazione sono tutti i migliori amici adoro cioè si buttano per terra quando perdono quando vincono lacrime adoro questo trash adoro 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 si ha tipo il make up le cose americane sui matrimoni sulle torte ho questa fissa e vabbè anche questo non interessava a nessuno e niente speriamo che alla fine di questa serie quando finirò di vedere questa serie saprò di sognarmi non lo so le cose in faccia le giraffe gli ippopotami le angurie vedremo buonanotte amici buonasera come state spero tutto bene fatemi sapere che avete fatto oggi di bello aiuto io sono super stanca mi sono riuscita a sedere solamente ora perché poi sono arrivata a casa dalla giornata frenetica in giro per Venezia abbiamo anche